Allora, per me è molto bello, come dicevo, quando la mia ergoterapeuta veniva e mi ha detto che i cateteri stavano a me, e mi ha detto, «Quoi hai con le utensili di cosmetica? Testi anche le utensili? Eiliner? Che è tutto questo?» Ho detto, non ho capito, ma non ho capito, fino a che ho realizzato, che ci sono le cateteri, che sono qui. Il disegno in un cateterio secondo me è molto importante, perché non tutte le persone comunque hanno un buon rapporto per quanto riguarda l'apertura proprio mentale del dover fare cateterismo. Il disegno di questo, che non aveva molto significato per me, che non aveva molto significato per me, ma non aveva molto significato, ma non aveva un piccolo, ma non aveva un piccolo, ma non aveva un piccolo. Il disegno e il viso di cateteri è molto importante per me, da avevo i cateteri i miei vita, che ho integriato, che ho sempre inizio, e che deve essere sempre descritto, ma è anche bello vedere, che posso fare con il tema cateterisare, che posso fare meglio con la incontinenza, che posso fare meglio con la incontinenza. perché comunque… ma soprattutto anche a livello psicologico, per sentire che non c'è quella mancanza di… che si perde quella mancanza di donne, quella mancanza di normalità, più che altro per quello lì. e quindi comunque è un conto far vedere una cosa che potrebbe rimanere traumatica, per tutti gli altri. È un conto far vedere una cosa del genere, che invece rimane così talmente piccolo e grazioso, il colore… poi è stato studiato anche con il colore, è stato studiato un colore molto morbido, molto tenue, non è un colore aggressivo, quindi può passare dall'inosservato e come può passare invece dal tranquillo, proprio a livello di prodotto, che non crea disagio oppure turbe, oppure cose mentali proprio a livello fisico. assolutamente. Certo però che con un prodotto del genere facilita quelle persone che hanno un po' più di disagio, rendono la vita quelle persone un po' più facilitata, quelle persone che in realtà non hanno un buon rapporto con la situazione che hanno. Tranquillamente. Poi ecco, che se l'accettazione è facilitata da un designer buono e da comunque una maneggevolezza, da una praticità, che comunque questo qui viene dato tutto da questo duo, anche da questo sondino, è meglio, è meglio ancora. Grazie a tutti i nostri fondi e, che sia un'inco per l'incontro, che sia un'inco per l'incontro, che è così utile, che è un'inco per l'incontro per l'incontro. Per l'incontro per l'incontro per l'incontro per l'incontro, Grazie.